In questo video tutorial per la compilazione della domanda per le assegnazioni provvisorie facciamo vedere come indicare le preferenze. Intanto per poter avere la possibilità di aprire il campo delle preferenze, dopo aver compilato quello della domanda come potete visionare nei video tutorial precedenti basterà salvare il tutto e dunque andare su prima su modifica e poi fare salva. Ecco, salvando la domanda, se la domanda è stata salvata e dunque l'operazione effettuata è stata effettuata con successo, vedrete che potrete entrare su preferenze o anche su allegati. Vediamo prima di tutto questo campo delle preferenze. Aprendo il campo delle preferenze si andrà a vedere che facendo modifica si potrà trovare come inserire il numero massimo di 15 preferenze. Non si potranno dunque inserire più di 15 preferenze. Per aggiungere una preferenza si deve fare questo tasto blu, aggiungi preferenze. e sull'aggiunta delle preferenze troverete la possibilità di fare una ricerca per scuole o per comuni. Ad esempio, se visto che il ricongiungimento era stato chiamato sul comune di Catania, non dimenticatevi, prima di mettere altri comuni, di mettere proprio quello di Catania. Cioè questo va chiaramente selezionato. Però prima di selezione del comune di Catania sarebbe stato possibile anche indicare qualche scuola di Catania o i distretti, o i riferimenti ai distretti di Catania. Comunque, inizialmente è consigliabile mettere le scuole. Dunque, se voi aprite distretto per distretto, troverete proprio le scuole. Ad esempio, facciamo un esempio, il liceo statale Turrisi Colonna. Ecco, mettiamo il liceo statale Turrisi Colonna e lo selezioniamo, preferenza è stata aggiunta. Possiamo mettere, per esempio, anche il liceo scientifico Umberto di Savoia. E si può indicare che è stato inserito. Poi, dopo aver messo una serie di scuole, per esempio, gli ospedalieri, il Greco, l'Istituto Tecnico Archimede, dopo aver inserito queste scuole, si può inserire l'intero comune. Ecco, la preferenza è stata aggiunta. Come fare a vedere dove sono state aggiunte le preferenze? Basta andare salendo con lo scorritore. Eccole qua. Qui ne avete ben sei. Poi, chiaramente, dopo il Comune di Catania, si possono aggiungere anche altre preferenze, ritornando, chiudendo, ecco, questo, facendo, mettendoci nella condizione di aprire un altro distretto, per esempio il distretto 18, Masca Lucia, si può mettere il Comune di Masca Lucia, o quello di Nicolosi, piuttosto quello di San Giovanni la Punta. Ecco, questi sono tutte preferenze aggiunte molto facilmente e che vanno a integrarsi di seguito a quelle già inserite. Come si può facilmente vedere, salendo e guardando, appunto, vedete, l'elenco. Fino a 15 se ne possono inserire. Speriamo che questo video tutorial sia stato utile ai nostri telespettatori, ricordando che proprio per le preferenze si possono mettere la preferenza delle scuole, come abbiamo visto, del Comune, dei Comuni, come abbiamo visto, dei distretti. Basterebbe, se io volessi mettere un distretto, cliccare un distretto ed è stata subito aggiunta. Dunque, addirittura, anche un altro distretto e anche un'altra ancora. Ecco che potete vedere come i distretti vengono inseriti in coda. Ecco, distretti e poi, se si vuole, addirittura tutta la provincia. Dunque, inserire tutta la provincia di Catania. Ecco, tutta la provincia di Catania. Per avere il massimo delle opportunità per ottenere l'assegnazione. Speriamo che questo video tutorial sia stato soprattutto chiaro. Un saluto e alla prossima. Grazie a tutti.